Ora vi mostro come preparare una buona coppia di espresso con la vostra macchina di Gaby. Prima di tutto, avviamo la macchina con la macchina principale. Nel display vi mostro le icone che lentamente flashano. Questo significa che la macchina si è alzata. Quando la macchina si è pronta, i icone si stoppiano a flashare. Abbiamo la blu luce. Il secondo passo è controllare la quantità di acqua nella acqua di acqua. Se necessitiamo di riempire acqua di acqua, riempiamo la macchina e aggiungiamo acqua. Quando riempiamo acqua di acqua, due cose possono succedere. Oggi si riempire un po' di acqua di acqua di acqua di acqua. Questo è una parte di acqua di acqua. Questo è, normalmente, solo un po' di acqua di acqua, non è lippido. Quindi riempiamo il tanko e poi lo mettiamo ancora nella macchina. A volte, quando riempiamo il tanko, nella botte della macchina, nella valva, può usare una piccola quantità di acqua. Questo è perché c'è alcune pressioni residuali nella area della valva. E questa acqua viene fuori quando riempiamo il tanko. Per evitare questo, prima di riempire il tanko, con una macchina, riempiamo tutta l'area. Le ultime tipi sul riempio del tanko del tanko è la quantità di acqua che riempiamo dentro. Il tanko del tanko ha una linea per mostrare il massimo di acqua che possiamo riempire. Deve non passare questa linea. Tutto è pronto. Prendiamo ancora con un movimento verticale. Il tanko della macchina. Prendiamo bene. Prendiamo bene. Prendiamo bene. Prendiamo un po' in modo che la valva del tanko di acqua abbia la valva nella botte della macchina. Ora andiamo con il nostro fendolo. La macchina ha due parti diversi del filtro. Un po' e due parti. Il standard basico è un po' e un po' di polvere fine di acqua. Il nostro po' è molto importante. Il nostro po' è corso. Non è corso per l'espresso. Perché l'espresso diventa molto piccolo in olio e crema. Il nostro po' è corso. Ora vedo come preparare due coppie. Adesso usiamo il filtro per due coppie. Si trattiamo con il fendolo. Il filtro ha una dimensione. Il fendolo ha un'altra dimensione. Si trattiamo insieme. Quindi si tratta di rotare. Si tratta di essere libero per rotare. Ora, con la spuola, aggiungiamo nel filtro due spuola di polvere. Poi, si tratta di tenere. Poi, si tratta di tenere. Poi, si tratta di rotare un po' di tempo. Poi, si tratta di tenere. Ci tratta di due cose. Il fendolo di polvere è necessario di essere flat. E poi, la quantità non deve passare la linea di maximo del filtro. Questo fendolo di polvere è necessario pulire. Perché, se ci siamo lasciati, potremmo ammigliare la parte interna del supporto del fendolo. Dopo questo, abbiamo messo la macchina. Abbiamo messo la macchina. In una posizione flat. Poi, lentamente, si tratta di rotare. Questo è molto importante. Se non fermiamo bene, abbiamo due problemi. L'unico è il fendolo. Non è un grande problema. Ma il problema molto pericoloso è che, se non è fermato bene, questo, durante la spuola, per pressione, viene fuori. Quindi, è molto pericoloso. Quindi, ricordate, la posizione lock. Cliccate le icone. Ok? Abbiamo messo la capa. Due importanti tipi, prima di iniziare a creare. La prima cosa. È importante controllare che il fendolo sia fixato. Perché quando il fendolo si tratta, che significa che la macchina si tratta, le due botte, una coppa e due coppe, non è permesso di lavorare. Quindi, se questo fendolo possiamo toccare molte volte, ma il fendolo non comincia. Bisogna aspettare, che il fendolo si tratta. il fendolo si tratta. Il secondo tipico, è per esempio, se abbiamo fendolo il coffe e, durante la fendolo, finire l'acqua nel fendolo. Abbiamo capito questo, perché la macchina comincia a fare una forte ruota e una forte vibrazione. In questa situazione, dovremmo stoppare la fendolo. Quindi, rotate il fendolo in posizione centrale, riempite il fendolo con il fendolo di acqua. E non usate ancora il stesso fendolo. Riempite il fendolo, riempite il fendolo e inizio, mettete il fendolo e poi riempite il fendolo. Questo è molto importante. Se questo fendolo non è riempito, quando il fendolo è riempito la macchina è calda e possiamo andare con la fendolo. Quindi, è ok. Riempite questo e poi iniziamo a fendolo. La macchina inizia a fendolo. È un'automatica quindi la macchina non è riempita quando ha la quantità corretta per il fendolo. La macchina non è riempita e vedete due molto buoni espressi. Allora finito. Prima mettiamo in posizione la macchina quando ha finito la macchina qualche piccola acqua viene fuori. Questo non è un riempito è usualmente per la macchina espressa è solo per la pressione risiduale. Ora vedete che è già stoppito. Se la macchina continua per un lungo tempo non è un problema macchina ma è perché non usate la corretta di poudra. Se il poudra è troppo due piccoli ogni acqua continua a passare perché è dentro il fendolo quindi ricordate i corretti la macchina poi possiamo ridurre il fendolo e qui vedete il risultato non è un'acqua se non è un'acqua è molto forte e consistente significa la quantità corretta e la corretta della corretta della corretta di poudra questo è usato con il poudra e cuocere con il poudra poi con una macchina cuocere la parte interna per evitare la poudra risiduale ora la macchina è clean se non hai bisogno di usare la macchina per esempio per frottare un po' il poudra si può cambiare la macchina ma non bisogna eliminare ogni volta il poudra il poudra il poudra il poudra il poudra